Uomini e donne La signora è incinta.2 Presto saranno genitori tornando un sogno che aspettavano da te. Ricordiamo che sia l'ex Cavagliere che il suo agno dei figli avuti da precedenti relazioni, ma ora sono pronto ad accogliere questo bambino per suggellare il loro amore nato nel dating show di Maria De Picco Stando alle anticipazioni diffuse dal dito delle regole, la Bernarzo e Aruta hanno portato con loro la prova di questa lieta novella, ovvero hanno mostrato alla padrona di Cassa la prima ecografia fatta di recente contro Uomini e Donne, il trono storico. Il percorso di Sostra è riparossi la Bernarzo. Naturalmente tutto il pubblico presente nell'estudio di Uomini e Donne sono rimasti di sacco, ma nello stesso felice periodo, anche Gianni Sperchi non si aspettava una osa del genere Ricordiamo, infatti, che lo storico opinionista di Uomini non ha mai visto di buon occhio Sostra di Maurizio sulla Bernarzo. Tanto da sospettare della loro sicurità, dopo la partecipazione in Team Fashion Island, l'ex balladino ha rivolto a l'ex dama consigliandoli di lasciar perdere il calciatore con Pana Lei è tornata al parterre senior per conoscere altre persone. Stessa cosa Sostra però è riuscita a riconquistare. Stando a quanto riferito da i due ex partecipanti del programma di Maria De Filippi, lui si è trasferito a casa della donna e vivono serenamente. Ora l'arrivo di questo bambino dirà ancora di più o meno Sostra dei sospetti. Sostra dei sospetti. Sostra dei sospetti che in ladora non avevano detto nulla sui loro rispettivi profili di Instagram, nonostante entrambi siano molto attimi. Forsi per non rovinare la sospetta .